9 assessori, 4 donne e 5 uomini. Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha ufficializzato questa mattina a Palazzo Cernezzi la squadra di governo. Si va dai 21 ai 62 anni. Sono soddisfatto della mia squadra. Lavoriamo insieme da 15 anni, ha detto Rapinese. È una squadra votata al bene della città. Non siamo maghi con la bacchetta magica, ma lavoreremo per Como. Il sindaco terrà, come annunciato in campagna elettorale, le delega al patrimonio, sport e sicurezza. Nelle sue mani anche affari generali e istituzionali, relazioni internazionali, polizia locale, innovazione tecnologica. Nicoletta Roperto, 30 anni, è il vice sindaco. Allele il deleghe alle politiche educative e sociali, volontariato, asilinido e politiche abitative. Michele Cappelletti è assessore a partite IVA, commercio, SUAP, decoro urbano e protezione civile. Le delicate deleghe, che riguardano l'edilizia privata, lavori pubblici, politiche energetiche, reti, acqua e gas, sono di Maurizio Ciabattoni. Il nuovo assessore alla cultura è Enrico Colombo, che si occuperà anche di urbanistica, mobilità e trasporti, marketing territoriale, eventi e turismo. Le new entry della giunta rapinese sono Monica Doria al bilancio, tributi, partecipate d'Economato e Nicoletta Anselmi al personale, comunicazione d'URP, rapporti con il Consiglio e tempi orari della città. Alberto Fontana è assessore agli affari legali, servizi demografici ed elettorali, servizi amministrativi cimiteriali, bandi e contratti, legalità e trasparenza e lotta alle mafie. Il nuovo assessore al verde all'ambiente è Ivan Matteo Lombardi, che si occuperà anche di finanziamenti pubblici e comunitari e sponsorizzazioni. E infine Francesca Romana Quagliarini, 21 anni, assessore alle politiche giovanili, pari opportunità, diritti civili, università, quartieri e partecipazione.